Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Come potete vedere dal mio maglione di Natale! Tra l'altro, regà, Natale... 22 gradi oggi! Natale anche no! Infatti sto soffrendo, però questo era quello più leggero che mi era rimasto. Regà, il prossimo maglione è de lana! Quindi, per favore, io permettermelo, voglio dire, non posso sudare! Quindi, se il tempo sia clemente con me, perché io ho altri calendari dell'avvento da aprire, anzi, iscrivetevi al canale perché qui trovate calendari dell'avvento molto low cost. Magari stupidi? Probabile! Niente di che, niente di eccezionale! Fino adesso abbiamo aperto un calendario di skincare che assolutamente vi sconsiglio in tutte le lingue del mondo. Abbiamo aperto un calendario di make-up che però in realtà non era malissimo! Non era malissimo! Qualcosa si poteva usare, per esempio, ho usato l'ombretto, effettivamente era molto figo. Adesso stiamo per aprire un altro calendario, sempre super low cost, questo mi sembra di averlo pagato tipo 9 euro, che sono pochi sicuramente per un calendario dell'avvento, ma è il prezzo giusto! Cioè, fino a 20 euro ce sto! Oltre ai 20 euro? No, regà, fateveli da soli! Cioè, non spendete troppi soldi per questi calendari dell'avvento fotonici, perché io ho una passione per i calendari dell'avvento, e li guardo tutti i video dei calendari dell'avvento, chiaramente. Cioè, vedo dei calendari dell'avvento, anche skincare, no? Ma regà, dei prezzi folli! Ma state fuori! Poi lo vai a aprire e dentro ce so, i mini sites, eh, ma quello grande però costa 100 euro. Eh, sti cavoli, tu però non stai a dare così piccolo, cioè... No, no, fateveli da soli! Usate l'immaginazione, usate la fantasia, adesso noi vedremo gli ultimi calendari dell'avvento che ho trovato in giro a prezzi molto bassi, poi comincerò a fare i calendari dell'avvento fatti da me, perché, come sapete, io tutti gli anni li faccio homemade per Luca, soprattutto. Ne farò uno, diciamo, familiare, ne farò un paio per Luca, credo. Quest'anno se ne becca due, più piccolini, però quest'anno mi sa che se ne becca due. Comunque, noi invece siamo qui oggi per aprire un altro calendario dell'avvento che ho preso su Temu, ed è un calendario dell'avvento di pietre! Pietre, immagino, preziosissime! Questo per calendario ho pagato anche 10 euro, me sa! Molto preziosi! Su Temu trovate diversi calendari dell'avvento, per ora, vi ripeto, quello dei make-up, quello dei skin care, questo non lo so, io dubito che siano cristalli veri, ma ne dubito fortemente, però almeno questo c'ha 24 caselle, visto che l'ultimo non so perché ce n'aveva solo 20, come se dicembre fosse più corto, non lo so. Comunque, qui dice National Geographic, però, cioè, è solo una parola scritta così, non è che è National Geographic, è quello dei National Geographic. Rock Minerals! Christmas Advent Calendar! Cristalli! Boh, Rock Minerals! Non lo so! Secondo me, so di plastica! Come fanno essere di pietra? Non è possibile, costa solo 9 euro, o so piccole così, o so di plastica! però so che il mondo dei cristalli, il mondo delle... queste cose qua, va tantissimo ultimamente, cioè negli ultimi due o tre anni, vabbè, io ho cominciato a vedere tipo i video su TikTok, di una che si è messa a vendere pietre, tipo dopo la pandemia, non lo so, è diventata mia ardaria con le pietre, bella per lei, bell'idea social. Io sinceramente non ce capisco niente, quindi in realtà stiamo apri sto calendario così, giusto perché costava poco, che l'ho trovato e mi sembrava carino, però magari qualcuno di voi, visto che so che c'è tanta gente che colleziona pietre, potrebbe interessare. Ora, vi posso dire se sono vere? Ma che ne so? Non lo so! Però devo dire che è fatto bene! Le pietre saranno ancora tutte al loro posto? Non lo so, suona! Però devo dire che il calendario è fatto bene, cioè è carino comunque, ora non so la qualità, però scopriamolo insieme! Scopriamolo insieme! Casella numero 1, intanto vediamo se si apre la casella, che già è una cosa importante da capire un calendario da me, sì! È un sassetto della spiaggia? Ma è un sassetto? Ma pare vero! Non è di plastica! È un sasso vero! Cioè, pare assolutamente un sasso che puoi trovare spiaggia, però è un sasso vero! Allora, a onor del vero, dietro c'è scritto, ah, però sono tutti mischiati, quindi io devo guardare quello che gli assomiglia, questo gli assomiglia, c'è scritto white jad, quindi jada bianca, ci stanno in realtà anche tipo, collezione, ornamento, microfibrillar, cristalloid, non lo so, non lo so, comunque è un sassetto, è piccolo, è! Cioè, quindi ci potrebbe anche sa il prezzo, forse, non lo so, se qualcuno di voi è esperto in pietre, mi faccia sapere se trovando, cioè, se alla fine, quando abbiamo viste tutte, se effettivamente una decina di euro di costo, ci può sta, non lo so, poi, apriamo la seconda casella, te prego, apriti senza sfondate, così te riuso l'anno prossimo, sarebbe bello, è impossibile, sì, infatti si è già sfondato, va bene, non userò il calendario l'anno prossimo, non fa niente, un altro sasso, questo è lucido però, questo era opaco, questo invece è un sasso lucido, carino, che ve dico? come faccio a capire? Dai, ma questo è finto, su, ma sembra smaltato, come si fa a capire se sono veri? non capisco come faccio a capire se sono veri, e non capisco manco qual è, potrebbe essere questo white pebbles, e che vuol dire white pebbles? se gli assomiglio, vabbè, dopo vi faccio vedere il retro, comunque, un altro sasso, questo a me mi pare de plastica, cioè non de plastica, ma non è una pietra, secondo me, poi, cioè, io lo so che a qualcuno, qualcuno di voi, sicuramente ci capirà de sta roba, questi, sui vetri, dei bottiglie, che raccoglievo su la spiaggia, ci danno all'estate, mi pare chiaro, cioè, io andavo all'olite, l'estate, a Porto Santerpidio, c'è stavano i sassi, perché la spiaggia era dei sassi, e in mezzo ai sassi, c'è stavano questi, cioè, palese proprio, c'è stavano questi, in mezzo ai sassi, che erano i pezzi di vetro d'ermare, c'è stava una su TikTok, che con queste cose, ce fa i gioielli, cioè, in pratica, va a armare, raccoglie i pezzi di vetro, così, questi levigati, e poi ce fa i gioielli, secondo me è un genio, questo è, è un sasso, questo è un sasso, palese, ah, blu peble, ma che vuol dire, silicon di oxide, silicon, non mi pare una cosa finta, vabbè, quattro, un altro pezzo di vetro, come faccio a capire, che non siano di plastica, non lo so, sto pezzo di vetro, sembra, potrebbe essere questo, ah, questo, Tian Stone, microcline, la mia faccia è tutta un bo, e voi direte, ma perché hai comprato un calendario, le pietre, se non ci capisci niente, eh, non lo so, però per farlo vedere a voi, magari qualcuno di voi ci capisce, e dice, oh, bellissimo, lo voglio, oppure magari qualcuno di voi fa i gioielli, e dice, prendo questo, e ogni giorno ho una pietra, per creare un gioiello, ecco, questo potrebbe essere, un utilizzo utile, cioè, se voi siete appassionati di quelle che creano, tipo, gli anelli, le cose, col filo, tipo, quello del rame, no, quelle cose molto fighe, che io ovviamente non so fare, avere questo calendario, può essere, fonte di ispirazione, nel senso, che ogni giorno, ti rifori in sassetto, e da quel sassetto crei un gioiello, e il tuo Natale diventerà più bello, dopodiché alla fine del Natale, pigli tutti i gioielli, e li regali a tutte le amiche per Natale, mi ha dato una grande idea, e questo è un altro pezzo di vetro giallo, sempre di quelli che puoi trovare sulla spiaggia, credo, però stavolta è giallo, e si chiama, sarà questo, o questo, potrebbe essere, Ginger Shaston, potrebbe, e non c'è scritto il numero corrispondente, della casella, quindi c'è, va da occhio, ma so, tutti un po' infarinati, cioè, sono tutti un po' opachi, capito, non so belli lucidi, questo potrebbe essere, Old Topazio, capito, cioè, se questo era un Topazio, no, ma poteva costare 9 euro, io credo, un tasso grosso, che bello però, cioè, magari è de plastica, però è bello, bello, questo mi piace, questo è Old Topaz, questo è Old Topaz, capito, come fa e sento pazzi o vero, dai, siamo seri, 9 euro, questo pure è il sasso, di quelli che trovi sulla spiaggia palese, e, potrebbe chiamarsi, sasso di spiaggia, forse, non lo so, acqua marina, non lo so, non lo so, poi, aspetta, ecco, che è questo, un sasso spicoloso rotto, un vetro, un coccio di bottiglia rotto, questo è un coccio di bottiglia rotto, palese, coccio di bottiglia rotto, che mi va a somigliare a niente, che sta nel retro di questo coso, niente, niente, proprio a niente, cioè, di tutte le foto che stanno qua dietro, questo non assomiglia a nessuno, poi, questo è uguale a quello, sta andando percola, ah no, questo è più giallo, cioè, sono tre gialli uguali, questo è l'ultimo, questo, sono uguali, sono sfumature, 30 sfumature del giallo, 50 sfumature del giallo, non lo so, andiamo qua che c'è, io non ci capisco niente, per carità, so io il problema, sicuramente in questo video, però, Bloodstone potrebbe essere, potrebbe, perché è rosso, vedete che sono tutti infarinati, te lasciano pure su le mani, lo sento farino, questo è uguale all'artri, ah no, questo è un po' diverso, questo sembra, l'allume di rocca, quello che c'è, usi come deodorante, credo sia, White Judd, usciata bianca, boh, questo video, è un insieme di boh, non lo so, secondo me l'idea più bella, è quella dei facci di gioielli, ogni giorno, e poi regalarli, il 24 dicembre, rega, questo è un pezzo, dello stesso sasso, ma che me è stata più a giro, cioè, è palese che è un pezzo, dello stesso sasso, avete preso un sasso, avete buttato per terra, sei rotto, avete messo nei calendari d'avvento, bello però, cioè c'è un sacco di sfaccettature, però è un sasso, vabbè, poi mazza come atletico il mio cane, l'avete visto? eh, 13 anni e non sentirli, questo è uguale a questi, sono tutti uguali, sono tutti uguali, ecco, un altro, lo distinguete l'ultimo? no, no, non è possibile, perché sono tutti uguali, Billy, mi hanno truffato, cioè, mi sono fatta truffare, perché ero consapevole che poteva essere una ciofeca, questo è un altro sasso, uguale a questo, tutti sassi identici, che è, tutti uguali, sono tutti imporverati, tra l'altro, poi, oh, numero 16, manco i numeri, questo è rotto, questo è il sasso rotto, rotto, palese, cioè, vedete qua è spaccato, questo lo taglia pure, me sa, perché è palesemente vetro di bottiglia, che non lo so, poi magari vi ripeto, ci sta qualcuno di voi che mi sta a guardare, sarà di guardare sta cretina, quello è preziosissimo, non credo, però, si sa mai, questo è un altro pezzo di sasso celeste di vetro di bottiglia, perché poi io li vedo, i video di quelle che vendono le pietre, no? Non so così le pietre che vendono loro, sono più belle, oh, bello questo, questo è un sasso grande, ma è uguale a questo però, scusate, cioè, è lo stesso sasso, vedete che è lo stesso, questo è lilla, lilla non l'avevamo ancora trovato, però sempre, insomma, pezzi di vetro, oh, questo è bellissimo, questo è bellissimo, ma credo che anche questo sia di resina, c'ho a questi impressioni, ce n'era un altro prima che ho detto, questo sembra di resina, non mi ricordo qual era, questo però è molto probabile che lo sia, poi, siamo arrivati alla casella numero 21, il Natale si avvicina, questa rosa, vedi, cioè, se tu trovi questa rosa, invece fai un gioiellino, io so contenta, questa è rosa, è carino, numero 22, questa è una caramella, palese, ah no, sapete questo che è? è Matrix, è la pillola rossa di Matrix, guarda, questo però è bello, perché questo è lucido, ora, sarà un pezzo di plastica facile, però è lucido, è carino, cioè, è più bello degli altri, gli altri sono impolverati, guardate cosa intendo, anche questo è rosso, ma vedete che è impolverato, perché sono impolverati? qual è la spiegazione scientifica? il borodalco? questo è piccolino, sono tutti uguali, scusate eh, questi quattro, e questo, ma non sono uguali, ma sono uguali, cioè, sono tutti pezzi dello stesso sasso, e la mattina di Natale, come te svegli, sentiamo, con sasso, brutto, cioè, alla fine, la mattina di Natale, invece, potevano mettere questo, questo è brutto, allora, ma io vi faccio vedere sul retro, carino eh, perché era fatto bene, per carità, era fatto bene, c'è stato un sacco di sassi dentro, l'idea di farci i gioielli, rimane una cosa più utile, secondo me, che potete fare con questo calendario, se collezionate le pietre, boh, che vi dico, non so se effettivamente so pietre vere, però sapete che c'è un modo che potremo provare, perché, mi ricordo di aver visto, un video di una ragazza su YouTube, che vende pietre, che diceva che, se voi con l'accendino, o passate su una pietra, e non gli succede niente, è una pietra vera, se invece passate un accendino, su una pietra, deplastica, cioè finta, se scioglie, cioè potremmo provare, potremmo provare da fuoco a casa, mo ce provamo, un minuto eh, allora, intanto mi devo procurare un accendino, dovrebbe stare vicino alla candela, questo è il retro del calendario, come vedete, c'è stato un sacco di sassi, disegnati sopra, ma io mica ho trovato, tutti questi sassi, che stanno disegnati qua, sopra me sa, cioè perché io ne ho trovati, 5 gialli no, ma qua giallo, non ce sta niente, quindi quei 5 gialli che erano, 5, 10, 15, 20, 25 tra l'altro, cioè ce ne doveva sta, no 24, cioè doveva essere uno per, ma se io ne ho trovati 5 tutti uguali no, e manco c'erano disegnati, qualcosa non l'ho trovato, tipo white crystal, o crystal, io ho trovato solo questi, che sembrano crystal, e sono uguali palese, quindi non capisco, questo dovrebbe essere, Old Topaz, e ce ne stanno due, quindi io qualcosa, tipo questo, Tiger Eye, non c'è mai, qua in mezzo, cioè proprio mai, questa potrebbe essere, Agata Rossa, che secondo me è plastica, secondo me, quello che c'è scritto dietro, è un po' così, de fantasia, cioè non credo, che sia effettivamente, quello che c'è, cioè qui c'è scritto, Ossidiana, l'Ossidiana, regala, riconosco, cioè io so, cos'è l'Ossidiana, è quella, la pietra nera, un po' lucida, bella, molto bella, qui c'è, ve lo posso giurare, qui c'è sta, non è mai uscita, nessuna Ossidiana, da sto calendario, uguale il turchese, può essere questo, ma penso, questo è palesemente, un pezzo di bottiglia, già da blu, che è questo, è uguale a quell'altro, però è blu, l'acqua marina, qua non c'è, cioè, diciamo che quello che c'è scritto dietro, nine, perché ci sono 5 sassi gialli, di base, comunque, vado a prendere un accendino, e vediamo se riusciamo a dar fuoco a casa, oppure a capire se effettivamente queste pietre sono pietre, o queste pietre sono di plastica, eccomi con gli ufficiali strumenti del mestiere, o del piromane, o del, cerchiamo di capire se le pietre sono vere o false, un accendino, e una pinzetta, perché non voglio tenere la pietra con le mani, perché se no mi sciorgo, allora, io comincerei da uno di questi sassi, anzi, di questi gialli, che ce ne avemo tanti, abbiamo un sasso di questi gialli, e capiamo che cos'è, lo teniamo con la pinzetta, così non ci scottiamo, e gli diamo fuoco, succede niente, diventa nero, se diventa nero, se diventa nero è finto, io non lo so, lo scrivo qua sotto, o mo' lo dite voi, non lo so, allora, non gli è successo niente, non si è sciolto, e già, non è male, però è diventato nero, però il nero se leva, vabbè, però non si è sciolto, di base, non mi pare poco, però puzza un po' di plastica, puzza un po', chissà, non si è sciolto, però puzza, deve puzzare, non lo so, vabbè, posamolo qua sopra il cartone, così non damo fuoco al tavolino, insomma, poi, testerei questo, che secondo me, è proprio plastica, ce n'è, ah ecco, questo secondo me è ancora più plastica, cioè questo secondo me è proprio smalto, testiamo, guarda come me faccio male, questo è il video, guarda come Chiara te fa male, questo diventa brutalmente nero, non si scioglie manco questo, però diventa nero, allora, plastica non è plastica, però, guardate quanto è nero, ciao, se sottore di quell'altro, boh, porca paletta, non diamo fuoco a niente, no, a posto, va bene, proviamo questo, che, regà, questo pare veramente, una colata de plastica, sopra un sasso, eh, lo dico, ve lo dico, questo sembra una colata di plastica, per renderlo di un altro colore, proviamo, fuma, è normale, non credo, non credo, comunque, io le cose stupide tutte, eh, c'è da dire, io le cose stupide, proprio, questo è diventato carbone, cioè, proprio carbone, però, è solo in superficie nero, cioè, appena lo tocchi, nero si toglie, e rimane la pietra, regà, no, sono curiosa di capire, eh, un momento, cerco su Google, e ve lo dico subito, non ve lo scrivo, ho trovato una risposta su Google, non proprio, nel senso che, l'unica cosa che, proprio noto, è che non sono fredde, allora, lì c'è scritto che, le pietre vere si riconoscono, perché sono fredde al tatto, queste non sono fredde, cioè, dice che si percepisce, proprio il freddo, anche a distanza, qui nessuno è freddo, cioè, sono a temperatura ambiente, e poi c'è scritto che, le pietre, eh, finte, diciamo, non sintetiche, ma proprio di plastica, di resina, bruciano, allora, questa è nera, ma non ha bruciato, cioè, non si è sciolta, è solo sporca, di nero, però, se la pulite, ritorna del suo colore, quindi, che ve dico? Non lo so, sicuramente, c'è qualcuno più esperto di me, che, potrebbe dire, guarda, so sintetiche, le pietre sintetiche sono finte, non sono pietre vere, però, non so manco di plastica, poi dice, fanno un rumore diverso, ma, questo è rumore, mi sembrano, mi sembrano sassi, quello che posso discutere, è che, a me mi parano vetri, cocci di bottiglia, cioè, mi sembra vetro, non mi sembrano pietre, le uniche che possono sembrare pietre, sono queste, e questa, e forse questo, ma non lo so, gli altri sembrano cocci di bottiglia, questi sono sassi, della spiaggia, non lo so, tirando le somme, sapevo che, io non ci capisco niente, quindi non lo so, però, pensato che, visto che ci sanno tanti appassionati di pietre, magari a qualcuno potrebbe essere tornato utile, vedere questo calendario dell'avvento, e, magari io, in realtà, è un gioiello, io non lo so, e quindi, qualcuno di voi dice, ah, io me lo voglio comprare, perché è una figata, mi pare una figata, per farci quella cosa dei gioielli, cioè, quella è una cosa, che se io sapessi fare gioielli, forse me lo comprerei, cioè, me lo comprerei proprio per fare questa cosa, ogni giorno, crea un gioiello, alla fine del mese, quei gioielli che ho creato, col calendario dell'avvento, che mi sono aperta tutti i giorni, piano piano, ogni giorno un anellino, ci faccio poi i regali di Natale, questa mi sembra una cosa carina, per il resto, lo ricomprerei, per me, no, anche perché le pietre, non me fanno un pazzincio, capisco niente, quindi che compra fa, per voi, ditemi voi, se può essere interessante, come calendario, se ci capite qualcosa, fate pietre, iscrivetevi al canale, però, perché non sono finiti i calendari dell'avvento bizzarri, ne ho assolutamente altri, altri tre, per l'esattezza, quindi li vedremo in questo mese di novembre, e quindi, da questo nuovo, calendario dell'avvento, particolare, è tutto, e noi ci vediamo, al prossimo video, ciao, questi versini faccio io, è lei, lei, e noi ci vediamo,